Tra i tanti ospiti VIP presenti a Fiera Cavalli c'è anche la splendida Nina, un'appassionata di equitazione immagino. Sì, infatti è un grandissimo piacere essere qua, sono anni che voglio venire. Ma come nasce questa passione? Ma secondo me come tutte passioni, un po' spontanea, un po' di naturale. Io quando avevo 5 anni sono andata a una fiera di cavalli come questa e ho visto un cavallo e mi ha fatto impazzire. e 5 anni e mezzo ho cominciato a montare i cavalli. All'inglese? Sì, cioè facevo salti e ostacoli. Hai fatto salti e ostacoli e quindi hai partecipato a competizioni? Sì, sì, l'ho fatto per qualche anno a livello agonistico, però il mio obiettivo è di guadagnare una botta di soldi perché ci vogliono tanti e continuare a montare. Quindi insomma ti auguro quanto prima di fare un mucchio di soldi in modo da esaudire i tuoi sogni e di trovarti qua in gara. Grazie Emile, speriamo di sì. Grazie.